Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. L'abbraccio del fratello gemello lo salva quando stava per morire nell'incubatrice. Quando Anna Zimonia ha saputo che sarebbe stata la madre di due gemelli, era al di là delle emozioni. Aveva già altri tre figli, quindi si sentiva pronta per i prossimi mesi di gravidanza. Tuttavia, i medici l'hanno avvertita che in questi casi è normale che il parto avvenga almeno un paio di settimane prima. Purtroppo è successo tutto molto prima del previsto. Mancando un paio di mesi alla gravidanza, iniziò a sentire forti contrazioni. Anna ha avuto i suoi bambini quando aveva 28 anni. È andata in ospedale e lì le hanno dato la medicina per cercare di rimandare il più possibile il parto. I gemelli sono stati tenuti nel grembo materno per un'altra settimana, il tutto per aumentare le loro possibilità di sopravvivenza. Alla fine nacquero Dylan e Deinion, ma la loro salute era davvero allarmante. Anna ha partorito quando era incinta di appena 25 settimane. I loro polmoni non si erano completamente sviluppati, quindi sono stati trasferiti all'unità di terapia intensiva. La madre sconvolta non riusciva a capire cosa stesse succedendo. I loro bambini erano stati trasferiti in un altro ospedale pochi minuti dopo la nascita. Tutto indicava che non sarebbero stati in grado di sopravvivere. I bambini sono nati con un peso di 800 e 900 grammi. Dylan e Deinion sono stati collegati a macchine per la respirazione e tenuti in piccoli sacchetti di plastica che cercano di emulare l'ambiente caldo e umido dell'utero. Dopo 14 settimane Dylan è stato dimesso, ma la prognosi del suo fratellino è diventata sempre più cupa. Deinion ha bisogno di usare ossigeno 24 ore al giorno. I dottori avevano fatto tutto, ma Deinion non poteva stare meglio. Le cose andarono così male che i dipendenti dell'ospedale chiamarono la famiglia per salutare il piccolo, gli restavano solo un paio di giorni di vita. Con il cuore spezzato, sono andati tutti ad accompagnare Deinion in questi tempi difficili. Posarono Dylan accanto a lui e i due fratelli si abbracciarono teneramente. Un semplice gesto come questo è riuscito a cambiare tutto. Le ha salvato la vita con un abbraccio. È stato meraviglioso da vedere. È la prova che non avrebbero mai dovuto essere separati. Dopo aver passato alcuni minuti ad abbracciare Dylan, la salute di Deinion iniziò a migliorare bruscamente. I loro livelli di ossigeno stavano diventando sempre più alti così i medici hanno deciso di organizzare un'altra visita per farli coccolare di nuovo per qualche minuto. L'effetto è stato un successo. È stato meraviglioso. Stando con il suo fratellino, Dylan è riuscito e lo ha fatto sentire meglio. Nessuno dei medici o delle infermiere si aspettava chi migliorasse così drasticamente. In molte occasioni, il contatto dei bambini prematuri con la pelle dei loro genitori ha generato incredibili miglioramenti nella loro salute. In questo caso, niente come il legame con il fratello gemello per ottenere la forza di cui il piccolo Dylan aveva tanto bisogno. Celebriamo la bellissima connessione che è riuscita a salvare il bellissimo bambino Deinion. Sentiti libero di condividere la commovente storia dei prematuri che hanno salvato con un abbraccio. Braccio. Benedizioni, dizioni.